buonasera a tutti e ben ritrovati ad astrologia e cartomanzia ciao da stefania ciao da tiziano e ciao da paolo allora siamo di nuovo qui dopo un mese perché alla fine abbiamo saltato una puntata poi avevamo detto di rimandare al martedì successivo però poi alla fine è saltato anche quello e quindi è da circa un mese che non andiamo in onda infatti abbiamo anche molte richieste che sono arrivate via mail quindi io direi di cominciare subito con la prima mail di Irene che tra l'altro ha partecipato anche al corso di astrologia anzi no al corso di tarocchi che abbiamo fatto la settimana scorsa sì allora lei sottopone una situazione molto delicata allora dice a una domanda per tiziano e paolo che riguarda i miei genitori in questo momento mio papà sta vivendo una situazione un po delicata perché da due anni circa sta avendo molti problemi di memoria può parlare di teosofia per un'ora ma si dimentica cosa fa cosa appena fatto bisogna ricordargli tutto eccetera da qualche mese la notte quasi tutte le notti ha delle specie di visioni non sogni ma molto reali in cui vede delle figure semi umane grigie che escono da sotto al letto o entrano dalla porta senza volto che cercano di unirsi fra virgolette a mia mamma che sembra accoglierli lui li caccia e poi si sveglia mia mamma non si accorge di nulla e non capisce la sua agitazione lui dice che non vanno mai da lui ma sempre da lei ma dei due lui è l'unico che li vede mia mamma pensa sia un problema neurologico ma da quel punto di vista è tutto a posto lei è molto terrena e l'idea di qualcosa che non può classificare la spaventa infatti ricordo che Irene proprio al corso ci aveva sottoposto un altro problema che riguardava proprio il rapporto con con la madre e allora insomma Irene dice volevo chiedervi se si può capire se c'è qualche parassita o qualche altra cosa che magari può star creando questo problema e se riguardi mia madre o mio padre o entrambi allora lei non ha messo i nomi né di suo padre né di sua madre che magari questo potrebbe essere utile credo a Tiziano ma guarda avendola conosciuta era presente al corso di tarocchi sì avendola quindi conosciuta posso bypassare il problema perché comunque in qualche modo sono connesso alla sua energia e poi ha messo anche i dati sarebbe interessante sapere non so se in questo momento è connessa se hanno o meno fatto il vaccino perché questo potrebbe avere un senso in tutto ciò ad ogni modo il sospetto che ho posso parlare solo di sospetto perché per approfondirla avrei bisogno di parlarci in consulto privato non attraverso una domanda così scritta perché è una questione molto delicata questa e non posso sbilanciarmi a dare sentenze con un'unica lettura sarebbe meglio analizzarla più in profondità e con l'impegno che una situazione simile richiede però il sospetto è che possa esserci una dinamica di adduzione qui quindi un contatto con esseri extradimensionali che si spacciano per alieni ma che alieni non sono e che stanno approfittando della situazione quindi questa è la mia teoria il giro che ho appena aperto mi conferma una dinamica di questo tipo però ripeto non posso essere sicuro che sia esattamente così vista anche la situazione di salute del padre potrebbe esserci dell'altro e queste potrebbero essere proiezioni quindi non posso sputare una sentenza in questo modo questa è una questione più delicata che richiede un intervento più preciso ok quindi poi Irene casomai ci scriverà di nuovo perché non so se è collegata adesso magari poi lo vedremo dopo comunque aveva messo anche i dati di sua mamma e suo papà però non ti precisa inutile con l'astrologia non riesci a vedere questo fenomeno sì sì perché lei ha fatto proprio la domanda specifica se è un fenomeno che non riguarda cose materiali e terrene non si vede certo al tema natale sì sì infatti inoltre poi adesso vedo che comunque i dati sono senza l'orario di nascita quindi in ogni caso si poteva vedere ben poco allora poi c'è questa domanda di Manuela allora la sua domanda è sul lavoro e poi vedremo che saranno molte domande sul lavoro e che si collegano ovviamente purtroppo alla situazione che stiamo vivendo perché molti si trovano in difficoltà per diversi motivi che però sono sempre riconducibili a quello che stiamo vivendo allora Manuela dice abbiamo resistito fino ad adesso senza pic indolor la chiama lei e bollini verdi siamo rimasti fermi immobili senza ripensamenti l'anno sta finendo a tra l'altro faccio una parentesi questa mail è arrivata il 24 novembre quindi ormai è passato quasi un mese mi auguro Manuela che nel frattempo le cose non siano cambiate perché noi adesso faremo la lettura sulla domanda che tu hai fatto però poi nel frattempo può essere cambiato qualcosa comunque dice Manuela l'anno sta finendo e come previsto da Tiziano e Paolo in quanto io ho già consultati mesi fa privatamente tutto è proceduto senza grandi intoppi riesco a prevedere grazie ad un mio intuito molto sviluppato le situazioni in generale specie sugli altri ma su di me non riesco perché sono troppo coinvolta personalmente e di conseguenza non sono affatto lucida e obiettiva ho un'azienda mia e la domanda è visti i continui sviluppi inquietanti della follia che stiamo vivendo giorno per giorno riusciremo anche stavolta a portare avanti l'attività senza grossi intoppi o saremo costretti a decidere di chiudere per non sottometterci questa è la prima domanda poi ce n'è un'altra e la facciamo dopo sì allora i dati allora ci sono i dati sia suoi che del marito perché poi c'è una domanda che riguarda il marito allora 30 marzo 79 alle 13 e 30 fatto e se non me lo dici però io rimango scusa dove a modica a terra del cioccolato essi sai che tipo di azienda è quella no allora lei qui non lo specifica non so se forse in una vecchia mail possiamo ritrovare comunque no non è importante diciamo che quello che vedo io è che effettivamente una chiusura provvisoria potrebbe capitare diciamo che questa chiusura provvisoria potrebbe anche essere compatibile con un semplice lockdown ma anche fosse una chiusura meno provvisoria di quella prevista per un lockdown comunque sia ci sarà una reazione quasi immediata a questo quindi diciamo che la famiglia non si piegherà all'accettazione di questa chiusura ed è possibile che verranno messi in campo o consultati degli avvocati che effettivamente possono ribaltare la situazione quindi qui sicuramente anche c'è una situazione molto delicata però sì c'è c'è questa possibile chiusura nell'aria come si chiama questa manuela io guarda dal tema natale manuela vedo che le difficoltà lavorative erano iscritte nel tuo tema perché c'hai plutone in sesta casa che è la casa del lavoro e ti è transitato quindi un po di mesi che purtroppo avanti sta storia con saturno appunto pure che è transitato lì per giunta nel periodo del lockdown quando a marzo sostanzialmente c'è stato proprio tu c'è avuto proprio nella sesta casa che è quella del lavoro è avuto plutone giove e saturno congiunti quindi un casino insomma e ovviamente quello che succede in astrologia è che prima o poi le cose devono migliorare indipendentemente da come va la situazione mondiale no comunque le tue cose miglioreranno allora sì tra l'altro ai transiti adesso di saturno e giove in settima quindi ci starebbe pure la causa legale che tu hai visto tiziano però quello che mi sento di dirti guarda tu c'è un bel giove in dodicesima casa per sasportas questa è la posizione assolutamente più fortunata di tutto il tema e lui dice lo ricordo sempre quando le sue parole sono che quando una giove in dodicesima casa è come se avesse un angelo protettore che anche nel momento più più buio arriva a salvarti davanti al plotone di esecuzione arriva all'ultimo momento qualcuno che dice fermate l'esecuzione queste sono le parole proprio di sasportas nel libro le dodici case e non solo questo giove in dodicesima casa è in una posizione particolarmente fortunata perché trigono a marte in in ottava e a mercurio che sta alla cuspide della nona quindi insomma io so e lo vedo dal tuo tema che qualunque cosa ti succederà andrà bene una cosa che posso aggiungere io è che sebbene le carte che avevo estratto per questa stesura non erano poi tanto positive una cosa che ho percepito che si respirava respirava appunto era un certo grado di di fortuna infatti un consiglio che posso dare è quello di non agganciarsi troppo alla mente se possibile per quanto sia difficile perché la mente metterà incubi ed inquietudini mentre invece se cercate di sintonizzarvi con il cuore oppure con la fiducia in qualcosa di più grande potreste percepirlo anche voi che non sarà nulla di drammatico quindi non fidatevi troppo della mente che è buona solo a proiettare paure allora poi sempre riguardo a questa situazione diciamo dell'azienda e tutta insomma la situazione in cui viviamo lei fa anche un'altra domanda che riguarda suo marito e allora prima do i dati allora lui si chiama Emanuele e 5 aprile 79 tra l'altro sono nati a pochissimi giorni di distanza ore 18 sempre a Monica allora dice nel nel caso nei prossimi mesi visto che rifiutiamo pic indolor e il resto categoricamente ci costringessero a chiudere l'attività è auspicabile per mio marito tornare a lavorare all'estero anzi tornare all'estero per lavoro vabbè si è stessa cosa Emanuele Emanuele sì allora sarebbe stato forse meglio fare la domanda specifica in quale paese estero ma mi esce effettivamente un potenziale molto positivo tieni presente però che io prevedo l'arrivo di difficoltà in Italia nei prossimi mesi questo proprio in generale quindi è una risposta questa pulsa dalla vostra domanda e queste difficoltà potrebbero rendere in quel periodo difficile rientro quindi tenendo in considerazione questo aspetto l'idea di andare all'estero effettivamente se voi avete necessità di mantenere i vostri standard economici è sicuramente un'ottima idea però ecco questo ti ripeto può portare a delle difficoltà legate al rientro difficoltà che sono assolutamente superabili però ecco rientrare forse non sarà una cosa proprio immediata come uno schiocco di dita allora io invece guarda ti dico una cosa Manuela dal punto di vista allora voi siete nati in periodi molto vicini quindi con le posizioni dei pianeti infatti tutti non a caso compatibili cambiano le case quindi c'è uno spostamento delle vostre case tale che le energie che voi avete si compensano in modo perfetto cioè perché tu hai questo giove in dodicesima casa che ti rende fortunatissima mentre lui ha giove in decima che però è la posizione più fortunata per quanto riguarda il lavoro e il successo quindi che significa questo significa che il suo giove è come il tuo in trigono a Marte e Mercurio perché non a caso i giorni coincidono anche se le case sono diverse lui ce l'ha nella casa del lavoro questo trigono e quindi ha un successo straordinario dal punto di vista lavorativo quindi anche a lui direi stai tranquillo perché dal punto di vista lavorativo a te nella vita non ti tocca nessuno ovvio che se è un periodo come questo comunque le difficoltà ci sono insomma e peraltro vedo proprio delle difficoltà con Saturno il passaggio lui ce l'ha in quarta casa ce l'ha avuto quindi il problema ha riguardato molto la logistica l'abitazione l'azienda proprio la struttura diciamo dell'azienda i movimenti ecco mettiamola così però che è normale appunto passerà appunto anche per lui questo periodo ma soprattutto comunque la sua vita sarà fortunata quindi fregatevi di questo momento contingente che è un momento normale cioè i nostri nonni i miei nonni vostri no magari perché voi siete più giovani di me i miei nonni hanno fatto due guerre mondiali e comunque ne sono usciti i genitori hanno fatto una guerra mondiale e ne sono usciti questa è la nostra guerra mondiale di quella della nostra generazione la mia è di quelli dei nati nel 65 la vostra nati nel 70 questa è la vostra è la vostra è la nostra guerra mondiale ne usciremo e nel tema natale si vede anche come uno ne esce cioè voi ne uscirete a testa altissima e nel tema soprattutto per quanto riguarda i transiti si vede qualcosa diciamo o una predisposizione o un una non predisposizione ad andare all'estero per lavoro in questo periodo in particolare questa cosa non c'è perché lui ha una posizione molto particolare cioè il nodo lunare sud in sesta casa unito a Marte e Mercurio in sesta però trigono a quel giove che sta in decima in che significa tutto questo significa che una parte del suo lavoro è il karma che la manda cioè quindi probabilmente di stare in questa azienda per esempio non è stata una sua scelta sta in questa azienda perché il destino come se fosse gli ha mandato questa cosa quindi presumo che sarà così anche in futuro cioè sarà un po il destino il karma che deciderà per lui sempre comunque con un esito positivo ok allora poi passiamo a Elisa che dice vi seguo dallo scorso anno ho contattato Tiziano un paio di volte e vi scrivo per chiedervi perché dall'ottobre 2018 vivo in uno stato a volte più accentuato a volte meno di ansia rabbia depressione allora intanto è infatti sì stavo per dire infatti ti do i dati allora 10 gennaio 74 alle 9 e 15 del mattino allora 15 chiede perché dall'ottobre 2018 vive in uno stato a volte più accentuato a volte meno di ansia rabbia depressione poi aggiunge da allora ho cambiato più lavori dove era quel tempo il lavoro mi piaceva molto ma c'era un clima troppo teso continue liti tra le mie colleghe non ero coinvolta nelle stesse ma pesavo ugualmente modo di lavorare subire liti continue morte di mia madre dopo una lunga malattia altri cambi di lavoro che ho vissuto male proprio per questo mio modo di affrontare la vita le giornate ora sono un'operatrice socio sanitaria con tutto quello che comporta esserlo ora in questo momento storico economico so che non ho transiti facili da un po che consiglio mi potete dare sì beh dal dal se dall'otto lei del 74 dall'ottobre 2018 aveva il saturno opposto a saturno ha avuto il transito di saturno opposto al suo saturno natale minchia stefania ma sei una bambina prodigio sì sì ma infatti c'ha sta mente lei c'ha questo saturno congiunto a mercurio capito che gli dà che dà sta cosa che cioè io ci metto mezz'ora per per visualizzo mentalmente i movimenti però io io invece io non riesco neanche a parcheggiare beh però puoi fare le carte che per chiedere per vedere dove dove troverai parcheggio dove no allora sì c'hai ragione ha avuto un bruttissimo un bruttissimo periodo perché perché ha avuto il transito come dici tu di saturno opposto a saturno ma poi ha avuto tutto il passaggio di saturno sulla dodicesima casa congiunto al sole a mercurio ora a venere in questo momento specifico è congiunto a pe al suo venere opposto alla luna quindi sì sull'ascendente quindi perché poi questo bastardo di saturno ha fatto questo maledetto ha fatto anche su e giù per un po quindi è stato retrogrado quindi è stato per chi aveva delle congiunzioni astrologiche particolari è stata una tortura perché magari sentiva un senso di rilassatezza diceva forse sta finendo il periodo e poi boom ripartiva in modo diretto e ti dava la batosta addirittura ha fatto per tre volte sto su e giù quindi sì qualche mese fa allora adesso ancora qualche hai parecchi mesi duri in cui avrai queste ansie queste cose qua però sappi che appunto passa perché a un certo punto saturno lascia ovviamente lascerà la tua prima casa e quindi la dodicesima scusa ti entra in prima casa ma a un certo punto fra due anni circa aspetta che faccio il conto precisa uno ma si guarda fra circa due anni già si mette per esempio in semisestile poi dopo t'andrà in sestile ci arriveranno dei periodi invece in cui ti sentirai molto carica perché tu hai questa opposizione tra giove e la luna il vantaggio di chi ha queste opposizioni è che cioè lo svantaggio che quando ti passa saturno sopra uno dei due pianeti ti fa casino pure su quello opposto ma il gran vantaggio è che quando però un pianeta e fra poco tra l'altro ci si piazza giove quella posizione si piazza in sestile a uno dei due pianeti e contemporaneamente va in trigono all'altro quindi uno sente una botta d'energia in avanti come se fosse sospinto da una sorta di turbo interiore quindi adesso purtroppo devi tenere duro per un po per qualche mese poi piano piano la tensione comincerà ad allentarsi e fino ad arrivare a questo periodo da turbo intercooler nel senso che non lo volevi fare però è riuscito no vabbè non lo volevo fare in realtà il turbo è un tipo particolarmente potente quindi quando uno dice ho una volvo turbo intercooler cioè sembrava proprio quindi vedrai che insomma sì devi qui il consiglio sarebbe appunto di in questo periodo praticare la meditazione fare tutta una serie di lavori interiori per reggere meglio questo periodo che potresti anche trasformarlo in un periodo di lavoro su te stessa per poi trovarti a uno stadio evolutivo superiore quando ne esci tra l'altro questo faccio solo questa considerazione e poi diciamo la parola tiziano ma questi qualche mese che hai detto coincide anche con quello che sta succedendo per quanto riguarda i vaccini tutte queste cose qui perché lei ha detto di essere un'operatrice socio sanitaria quindi chiaramente infatti lei ha detto con tutto quello che ne consegue quindi sì saranno mesi ancora qualche mese però l'evento esterno è sempre quello che attiva una cosa che già c'è nel tema cioè se tu avevi un tema natale diverso quindi metti che questo quindi questi pianeti quindi questo giove anziché avercelo sull'ascendente ce l'avevi in seconda casa faccio un esempio in questo momento magari ti saresti sentita un po' giù perché comunque saturno sull'ascendente porta un momento particolare di pressione ma magari l'avresti pesa molto bene se addirittura magari saturno invece di averlo congiunto a giove ce l'avevi in questo periodo trigono a giove pulse sull'ascendente chiaramente ti saresti sentita particolarmente bene e saresti stata tra quelli che dicono nonostante questo periodo di merda io comunque mi sento benissimo perché sono fiduciosa nel futuro che a me veramente quando le persone mi dicono io sono fiduciosa perché penso che ci aspetta un radioso futuro a queste persone gli darei un pugno in faccia perché perché io sto bene io Paolo Franceschetti in questo periodo non mi sta toccando troppo non mi ha cambiato troppo le abitudini eccetera ma ci sono persone che stanno in un casino della miseria perché non riescono ad avere questa visione e uno deve pure pensare al resto dell'umanità cioè il fatto che a me va bene non significa che posso consigliare a tutti di avere il mio ottimismo grazie al cazzo che ho l'ottimismo a me i transiti di merda di questo periodo mi hanno coinciso guarda caso con tutta una serie di posizioni planetarie mie personali tutte positive e quindi grazie che non mi ha colpito il fenomeno quindi molto dipende da tutta una serie di cose insomma allora io aggiungerò poco rispetto a quello che ha detto Paolo perché da questa lettura vedo effettivamente che una componente importante del problema è proprio di natura ambientale ciò che posso aggiungere è che alcuni piccoli conflitti erano già preesistenti prima della data che tu hai indicato nella mail e che in particolare dal decesso di tua madre è come se fosse venuto a mancare un certo tipo di sostegno che magari non era di natura materiale ma più di natura te la definirei come di integrità come se la presenza sua fosse per te comunque un elemento che ti dava in un certo senso un ordine, una direzione anche se magari in quel periodo eri tu che dovevi prenderti cura di lei e quindi magari ad un livello superficiale la cosa poteva essere associata ad un peso che stavi portando in realtà interiormente ti dava un senso di integrità venuto a mancare quello effettivamente le cose si sono fatte più difficili rinnovo il consiglio che ti ha dato Paolo quando la vita si fa tempesta c'è un modo di imparare a stare in equilibrio ed è quello proprio di imparare in un certo grado di flessibilità cosa che una disciplina spirituale qualsiasi può aiutarti a manifestare quindi si tratta di anticipare un po' queste ondate di marea e come direbbe non ricordo chi imparare a danzare sotto la pioggia e poi tornerà il bel tempo quindi tieni duro ok allora adesso c'è un'altra mail che purtroppo anche questa parla comunque della situazione lavorativa e in generale diciamo della situazione in cui viviamo allora Marina dice ah sì i dati sì 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 tra l'altro ci sono ci sarebbero due dati da mettere perché anche quelli del del compagno comunque i suoi sono 23 maggio 83 alle 6.08 di mattina a Napoli e poi dopo vediamo anche il compagno allora dice Marina vi ringrazio per tutto il lavoro che fate un ringraziamento speciale a Paolo che con scuola di astrologia e non solo mi ha aiutato a capire come si legge una carta natale e mi ha aperto un mondo aiutandomi a capirmi meglio a lavorare su me stessa e dice nodo nord in prima casa infatti adesso lo vedremo quindi ha imparato e assimilato bene Marina sì allora vi scrivo perché sono un insegnante di sostegno nella scuola primaria ed ora con le nuove leggi parte della mia vita verrà stravolta visto che non voglio fare il vaccino mi farebbe piacere un consiglio su come affrontare tutta questa situazione mi chiedo cosa posso fare per vivere al meglio questa nuova sfida e poi parla anche del compagno poi dopo lo vediamo Marina Marina sì ma intanto io posso dire Marina che tu hai il transito di Giove in decima casa e fra poco ti entra Saturno quindi quando entra Saturno in decima obiettivamente è un periodo di grandi stravolgimenti duro proprio per quanto riguarda la carriera il successo, la realizzazione professionale eccetera quindi ti aspettano due anni, due anni e mezzo insomma piuttosto faticosi ora vediamo Tiziano cosa ci dice è una gemelli ascendente gemelli insomma un carattere molto estroverso allora purtroppo anche io qui vedo un periodo duro che andrà anche peggiorando in futuro compatibilmente con quanto ha appena detto Paolo che consiglio posso darti qui? allora posso dare un attimo un'occhiata al suo tema? eccola perché io qui ravviso da parte tua un certo potenziale latente che hai di natura spirituale infatti il consiglio che mi viene da darti è di agganciarti il prima possibile a questo potenziale perché se lo farai nel buio ti verrà comunque indicata una strada tra l'altro poi su questo aprirò una parentesi comunque per affrontare nel breve periodo queste difficoltà la cosa migliore che puoi fare è entrare in comunicazione con altre persone come te perché attraverso di essa potrebbero svilupparsi delle idee che ti darà comunque qualcosa da fare nei prossimi tempi però ecco mi aspetto comunque un futuro abbastanza duro per questo la prima parte della risposta forse è più importante quella riguardante l'aggancio che hai a livello spirituale perché lì puoi trovare effettivamente una qualche risorsa e la parentesi che volevo aprire è la seguente questo è un periodo d'oro per dedicarsi di più alla spiritualità informativa in qualsiasi modo attraverso la meditazione lo yoga, qualsiasi altra disciplina ma anche la preghiera questo perché siccome l'umanità sta rinunciando alla spiritualità in questo periodo e questo è un effetto collaterale della vaccinazione di rimando tutti coloro che resistono al siero è come se ricevessero una spinta verso l'alto io faccio sempre questo esempio quando spiego il fenomeno un po' siccome a livello di umanità siamo tutti connessi è un po' come se un uomo perdesse uno dei cinque sensi gli altri quattro diventano automaticamente più acuti e questo sta accadendo a livello di umanità ovviamente però bisogna attivarsi per ricevere questa spinta e in un certo senso sta avvenendo una chiamata dall'alto quindi siamo un po' tutti chiamati in questo momento e io vi garantisco che se rispondiamo alla chiamata ne avremo solo da guadagnare quindi è un invito che rivolgo a tutti quanti non contimate soltanto a vivere la spiritualità a livello di conoscenza e di mente passate anche alla pratica in effetti il periodo porta a questo allora poi Marina chiede anche una cosa che riguarda il compagno sempre però nell'ambito lavorativo perché dice mentre io vivo tutto ciò anche il mio compagno non se la passa bene vive un blocco in ambito lavorativo lavora saltuariamente come pizzaiolo o altro da anni e si chiede qual è la sua strada visto che i lavori fino ad ora non lo hanno mai soddisfatto allora lui si chiama Pietro Luca ed è nato il 6 febbraio 84 alle 19.30 a Napoli no non l'ha soddisfatto no il lavoro perché ha un bel nodo nord in decima casa che è la posizione di chi come scopo della vita ha quello di trovare la propria realizzazione professionale cioè quando si ha il nodo nord in decima casa la caratteristica è quella di non trovare ma senza altro la propria sistemazione se non dopo i 40 anni ma attenzione dopo i 40 non è che la si trova la si comincia a capire cosa uno vorrebbe fare che è un po' diverso quindi normalmente con questo nodo si arriva a capire quello che uno vuole fare verso i 60 anni ovviamente più uno lavora su se stesso più capisce diciamo cosa deve fare però complessivamente è proprio lo scopo della sua vita questo c'è anche un sole in sesta casa che comunque appunto il lavoro infatti lo dovrebbe trovare normalmente c'è una parte poi della vita di come si chiama Stefano Luca Pietro una parte della sua vita è comunque guidata dall'altro lui ha un nodo sud congiunto strettamente a Urano quindi lui oltre ad avere una situazione familiare che sicuramente è una famiglia che comunque lo condiziona non so come non so perché condiziona fortemente le sue scelte tutt'oggi perlomeno lo ha condizionato in passato nelle scelte che ha preso adesso non lo so in che modo comunque sicuramente diciamo c'è questo elemento della famiglia che in qualche modo l'ha un po' bloccato però è anche una posizione quella congiunzione del nodo sud a Urano che dà un forte carattere di predestinazione a Pietro Luca cioè cosa significa? che lui dentro di sé spesso avrà delle istanze, degli istinti, delle cose sente che dentro deve fare delle cose quasi potrebbe avere delle visioni, dei sogni lucidi e dovrebbe sentire come se la sua vita qualche volta è stata un po' guidata dall'alto allora anche su questo Paolo siamo in linea perché io ravviso una risposta simile infatti anche qui ravviso un potenziale di tipo spirituale latente non da poco questo è in effetti un simpatico è una simpatica coincidenza che ha anche con Marina il nome giusto? sì perché ambe due hanno questo potenziale piuttosto alto e sarebbe bene che lo mettono a frutto infatti ascoltando te ho capito anche il senso della risposta perché la risposta principale che mi era uscita da questa lettura era proprio che il suo lavoro è il lavoro su di sé io dicevo però ok sì però sembra una risposta un po' troppo filosofica invece no perché tu effettivamente hai un potenziale molto alto da realizzare e posso azzardare anche se questo va oltre quello spettro che io posso apprezzare con una lettura che tu hai un potenziale molto alto anche come guaritore guaritore inteso come concetto allargato quindi non per forza qualcuno che aiuta gli altri a guarire dalle malattie ma anche a capire meglio se stessi però devi realizzarla tu stesso questa cosa e quindi diciamo che in realtà per te la parola chiave è il lavoro su di sé ovviamente tutto questo si contestualizza in un momento in un contesto storico e politico e sociale molto difficile e in effetti vedo più o meno lo stesso tipo di difficoltà che ho visto anche dal giro precedente quindi probabilmente vi troverete entrambi ad affrontare questo periodo difficile nello stesso momento e più o meno nello stesso modo a maggior ragione allora vale il consiglio che vi ho dato e cioè agganciatevi al mondo spirituale trovate lì la vostra direzione probabilmente per voi la soluzione non è sul piano orizzontale ma è sul piano verticale ok ora c'è la mail di Flavio allora intanto fa un'introduzione facendo i complimenti ecco allora anche lui dice anche io sono uno di quelli che sta soffrendo per quello che sta succedendo in questo folle periodo mi sento frustrato affranto mi sembra di vivere in un romanzo distopico forse perché fondamentalmente sono un idealista e questo mi causa tormento interiore dimenticavo di nuovo i dati perché te li do subito così già li prepari allora primo maggio 75 alle 11.05 a Rovereto provincia di Trento allora poi prosegue sono furente non tanto con il popolo bue che si beve ogni cosa quello ci sarà sempre ma con i prezzolati al soldo del potere i quali mentono sapendo di mentire e vogliono odio purtroppo anche io faccio parte di una di quelle categorie sottoposte all'obbligo dell'infame ricatto mi vogliono togliere la gioia di un lavoro che sento di amare e per il quale ho fatto sacrifici in poco tempo mi sono ritrovato confuso e stressato non so ancora se accettare di essere sospeso dal lavoro oppure cedere all'infame ricatto a prescindere dalla mia decisione ho promesso a me stesso che dedicherò una parte del mio tempo ad agire senza violenza contro i nemici dell'umanità e per aiutare le persone in difficoltà per dare conforto a chi si sente smarrito e solo come talvolta mi sento sono altresire attrestato per mia figlia una preadolescente che ha tutta la vita davanti e che difficilmente potrà vivere come nella mia gioventù fatta di poche cose materiali ma di libertà e tanta spensieratezza quello che mi piacerebbe da parte vostra è di dare uno sguardo al mio futuro di padre e lavoratore per cercare un modo di ritrovare me stesso e quella tenacia che ho smarrito lui si chiama Flavio ma allora guarda Flavio intanto io dal tuo tema ti dico guarda che coincidenza tu hai fatto la domanda che ha fatto anche una lettrice all'inizio sul lavoro proprio, su questo obbligo e bla bla con i stessi transiti transito alla sesta casa e quindi casino però per fortuna posso dirti le stesse cose che ho detto diciamo nell'altro tema cioè tu hai comunque una posizione fortunata sul lavoro ovvero sia il sole che è in decima casa con mercurio sempre in decima casa per giunta sto sole e sto mercurio sono assolutamente ben piazzati perché oltre ad essere in decima hanno un bel sestile con Marte, il sole e un altro sestile con Saturno quanto a mercurio invece ha un trigono con la luna questo significa che pur nel periodo devastante che stiamo passando riuscirai ad affrontare bene questo perché riuscirai a rielaborarlo interiormente molto bene certo non adesso, non in questo momento ci vorrà comunque un po' di mesi insomma una certa tendenza al pessimismo tu ce l'hai perché è un bel Saturno piazzato in dodicesima casa l'altra persona c'aveva gioche in dodicesima in realtà e questo gli dà una positività interiore quasi sempre quasi onnipresente nel caso tuo no, è il contrario c'hai Saturno in dodicesima casa che ti dà una sorta di pessimismo cosmico cioè hai una visione certo questo ti porta molto ad aiutare gli altri hai un bel chirone piazzato al medio cielo quindi presumo che è una delle categorie che ti ha colpite potresti stare appunto nella sanità o in polizia insomma però diciamo complessivamente il quadro è assolutamente positivo poi io invito sempre a fare questa riflessione sul fatto che è vero che è una situazione distopica ma la seconda guerra mondiale non era distopica è la prima? cioè tu vivevi in città ogni tanto le sirene giù bombardamenti a tappeto e poteva morire chi capitava perché non è distopico quello che vivono a Gerusalemme continuamente con quelle continue guerre che non hanno mai pace lì in quella zona non è distopico quello che vivono in Africa in cui ci sono guerre continue carestie, morti, povertà che abbiamo provocato noi perché questi stavano molto meglio prima di che arrivassimo noi cioè purtroppo è semplicemente il mondo è distopico noi stavamo in un mondo occidentale e ci sentivamo privilegiati e adesso è arrivato il destino che ci ha detto eh tu ti sentivi privilegiato guarda un po' mochetti combino però è una situazione che hanno passato i nostri nonni i nostri bisnonni i nostri genitori e quindi ci dobbiamo passare anche noi allora quello che vedo io come primo consiglio sicuramente ritrova il tuo centro perché tu sei caratterizzato da energie molto caotiche in questo momento e quindi tendi a vedere come giustamente Paolo ha sottolineato le cose in una ottica peggiore rispetto a quello in cui sono in realtà siccome già come sono in realtà non è che sia proprio il massimo vederlo in modo anche peggiore insomma di sicuro non ti giova ehm per quanto riguarda il tuo futuro io vedo che ci sarà questo periodo di down che durerà ancora qualche mese probabilmente tenderà a finire verso marzo però poi ci sarà quindi una risalita, un miglioramento ehm anche piuttosto incoraggiante però seguito di nuovo da un altro periodo di down che durerà probabilmente un altro paio di mesi circa dopodiché eh si avrà di nuovo una risalita ed un miglioramento visto che sei sulle montagne russe sotto questo punto di vista è il jolly che hai a disposizione proprio la tua mente per questo devi ehm come priorità secondo me ehm cercare di mantenere la lucida la fede, l'ottimismo ma se vuoi anche la speranza sono eh ottime armi che hai a disposizione devi soltanto usarle ok quindi allora fra me l'abbiamo fatto Tamara che chiaramente anche lei problemi di lavoro eh sì è nel eh ma d'altra parte le persone che ci ascoltano e che che si rivolgono a noi insomma molti quasi tutti direi hanno una certa visione del mondo quindi chiaramente non non accettano il questo vero e proprio ricatto che è in atto in questi mesi con il vaccino il Green Pass eccetera e quindi molti si trovano con problemi lavorativi e di vario tipo allora Tamara ehm tra l'altro anche lei ha partecipato al corso di Tarocchi ehm allora non ha messo i suoi dati perché penso che principalmente la domanda appunto sia per le carte e dice vorrei chiedere eh se vi fosse possibile ehm alle carte come si mette la mia situazione lavorativa da poco nella mia professione è scattato l'obbligo vaccinale e io mi sto adoperando per cercare di trovare una soluzione attraverso un medico che mi ha seguito a causa di una malattia pregressa e un avvocato eh sì infatti mi ricordo che ne avevamo anche parlato nel corso di qualcosa di questo tipo eh questo siero potrebbe darmi seri problemi di salute le forze ostacolatrici sono molte ma io confido nella protezione divina alla quale mi abbandono non so se mi sarà possibile essere presente alla diretta riascolterò la puntata eh sì quindi sulla situazione lavorativa e quindi immagino che la domanda sia anche se riuscirà poi alla fine ad avere questo questo esonero per la malattia allora no purtroppo l'esonero io non lo vedo sebbene hai la possibilità di temporeggiare parecchio però no l'esonero cioè un qualcosa che ti risolva il problema io non vedo la soluzione del problema vedo comunque un periodo abbastanza positivo che arriverà a breve quindi probabilmente riuscirai a temporeggiare un po' però su un lungo periodo continuo a vedere la continuazione di queste difficoltà dunque diciamo una cosa se tu con i tamponi comunque sei in difficoltà è possibile allora che questa mancata soluzione sia compatibile con il fatto che comunque anche se continuare a lavorare comunque il lavoro è piuttosto faticoso da sostenere ti dirò il giro non è così drammatico in realtà però è un po' grigio quindi una soluzione che ti faccia respirare e stare bene non la vedo all'orizzonte però non vedo neanche un declino quindi comunque è un giro piuttosto incoraggiante cerca di non cedere alla disperazione e alla preoccupazione perché nel momento in cui lo fai dai energia proprio a quelle forze ostaculatrici se invece mantieni alto il tuo umore e ti sintonizzi con i piani superiori che è un consiglio che stasera sto dando ripetizione così dai energia alle forze del bene e loro ricambieranno in qualche modo in un certo senso loro aspettano proprio che siamo noi a chiedere aiuto quindi questa può essere un'ottima idea perché come ho detto in questo periodo è molto fertile per questo tipo di cose lo sto riscontrando già da settimane nei miei consulti quindi lo sto consigliando a tutti e ho anche dei feedback su questo quindi il momento è propizio bene allora c'è l'ultima richiesta via mail poi ho visto già che sono arrivati anche diversi commenti qui in chat quindi adesso cercheremo di accontentare tutti allora questa qui invece è una richiesta di Simone in particolare sui transiti e sulla situazione quindi astrologica adesso ci sono questi due che si stanno si stanno distraendo stanno parlando tra di loro non so che cosa mi stava Paolo mi fa le boccacce allora dicevo che questa mail di Simone è su non per le carte ma invece per la situazione astrologica e i transiti perché dice che è già un tuo allievo per quanto riguarda la cartomanzia e anche di Alessandra per il percorso di magia quindi dice per cui la mia domanda è per Paolo vorrei capire da un punto di vista astrologico come si inquadrano i miei due anni passati e quali sono le prospettive per il prossimo futuro allora il tema sì i dati sono 16 agosto 70 alle 13.50 a Firenze e appunto dice come si inquadra i miei due anni passati quali sono le prospettive per il prossimo futuro Paolo mi ha fatto il tema natale circa due anni fa poi specifica insomma la sua situazione lavorativa lui comunque lavora e vive in Russia e dice che non avrebbe intenzione di tornare in Italia non lo so se poi la leggo tutta però Simone ah Simone sì magari intanto mentre mentre tu guardi posso leggerla comunque allora dice lavoro nel campo dell'oil e gas praticamente da sempre nonostante ne abbia percepito la repulsione fin dal principio ho provato altre strade soprattutto nel campo delle energie rinnovabili e dell'ottimizzazione energetica ma mi sono sempre imbattuto in vie senza uscita la mia carriera lavorativa da un punto di vista economico ha raggiunto il suo picco alla fine del 2020 quando sono stato trasferito ad un'altra società dello stesso gruppo con una riduzione drastica del mio precedente stipendio un terzo di quanto percepivo fino alla fine del 2020 ho dovuto accettare causa complicazioni covid lavoro e vivo in Russia e non avrei intenzione di tornare in Italia già da due anni e mezzo avevo deciso di cambiare la mia vita sentivo sempre più forte la necessità di fare un piccolo non so se adesso lo leggerò bene comunque Olshaku Kenpon Paolo sa di cosa parlo deve essere una cosa del buddismo di Nichiren sì ma non vi ricordo cos'è ok comunque allora è di trovare un lavoro ed un paese che mi dessero le soddisfazioni e l'appagamento che non ho mai avuto nel mio lavoro attuale oltre a una retribuzione che non mi permette di coprire le mie spese correnti sto attingendo ai risparmi accumulati sono stato di fatto parcheggiato e messo da parte in quanto troppo competente e non appartenente al giro di amici che gestiscono la società e questo è interessante purtroppo accade considero questa fase della mia vita la fase della demolizione divorzio situazione lavorativa insostenibile eccetera nella quale occorre fare pulito per poter costruire qualcosa di nuovo e vorrei capire se i transiti a partire dalla metà del 2019 riflettono questa mia condizione e sapere che transiti si prefigurano per il futuro allora guarda in realtà il problema credo tuo anche dal punto di vista lavorativo non è tanto i transiti in sé che in questo periodo non sarebbero neanche tanto negativi il problema Simone è che tu hai quel nodo sud in decima casa che porta la tua vita lavorativa ad essere soggetta a delle imponderabilità esistenziali cioè delle forze carmiche che trascinano la tua vita è tra l'altro la stessa posizione identica che c'aveva una delle persone che abbiamo letto prima quindi quando è così è difficile dire adesso studio questa cosa qui e poi faccio questo lavoro qua no la vita ti porta sempre a fare scelte lavorative che non sono tanto scelte quanto sono delle imposizioni da parte del destino si trova al lavoro per caso si trova per un colpo di fortuna per una coincidenza per una persona conosciuta per caso che dice ci sarebbe questo posto libero e uno accetta che non se lo sarebbe mai aspettato quindi diciamo il lavoro con questa posizione non può essere programmato è il destino che ce lo manda quindi per il resto ti aspetta qualche mese sicuramente duro perché c'è un passaggio nella terza casa di saturno tra congiunto alla luna e opposto a marte quindi non è un transito negativo sul lavoro di per sé purtroppo è un transito negativo per te cioè tu ti sentirai come se fosse una sorta di cappa di piombo di peso sulla testa come se ti volesse schiacciare diciamo così e fra qualche mese sarà anche peggio quindi ti devi solo preparare è un transito che dura comunque qualche mese e poi alla fine finisce quindi non ti preoccupare insomma ok allora adesso ci sono alcune richieste che sono arrivate in chat non so se voi volete fare una pausa o se ve la sentite di continuare perché insomma oggi è una puntata molto ricca proprio perché erano arrivate diverse richieste è un mese che non rispondiamo eh sì facciamo allora facciamo una piccola pausa musicale ci fermiamo un attimo e e poi però rispondiamo alle domande in chat fermo restando e rispondiamo a quelle che sono arrivate fino adesso senza che si ne aggiungano perché altrimenti sì anche perché certe volte questa trasmissione la facciamo a fine giornata dopo giornate pesanti oggi è stata per tutti una giornata pesante e quindi proprio vabbè comunque insomma ce l'abbiamo fatta a farla cioè sembra c'è stato un momento che pensavo che non si dovesse fare perché ci abbiamo avuto una serie di contrattempi e poi alla fine invece abbiamo incastrato tutto abbiamo cominciato in orario e bene però qui un po' di stanchezza c'è dai mettici il muscolo rosso di cicciolina no allora metto invece l'ho messa anche prima nella trasmissione con Maria Grazia però siccome so che a te Paolo piace particolarmente metto Kirie signora bipietà di Angelo Branduardi e quindi ci risentiamo di nuovo qui fra qualche minuto eccoci di nuovo qui dopo Branduardi con Kirie e allora quindi cominciamo con i commenti arrivati in chat Roberto nato il 2 settembre 88 alle 23 e 25 a Roma e dice sto vivendo un momento di incertezza vorrei capire con l'aiuto di Tiziano e Paolo a cosa sto andando incontro astrologicamente sta passando per la seconda volta Saturno sul mio medio cielo e Giove in decima casa dopo retrogradazione questi stessi transiti portarono quest'estate un grande lavoro di responsabilità che io accettai nonostante l'illegalità della situazione finì malissimo ma con la gran fortuna di non esserne coinvolto personalmente ora che il cielo si ripresenta simile a quest'ultimo evento si sta facendo nuovamente un'opportunità grande di lavoro ma anche pericoloso vorrei capire se queste opportunità mi porteranno a realizzare i miei sogni oppure a prendere batoste dalla vita specifico che faccio compassione e ricerca il coltivatore roberto allora intanto inizio io quello che posso vedere ricordando che io vedo un periodo di tempo limitato nel futuro è che io queste batoste in arrivo non le vedo o meglio ci sarà probabilmente una sorta di tradimento della tua fiducia in futuro però provando a sbirciare quello che c'è poco oltre c'è sicuramente la minaccia di una perdita che può essere anche una perdita di natura economica a seguito di ciò però dopo c'è un'improvvisa svolta che farà rientrare in carreggiata la situazione quindi posso descrivertela forse come un periodo inquietante e di spavento che vivrai che comunque lo vedo piuttosto spostato nel futuro rispetto a quelli che sono i miei parametri perché siamo a ridosso circa dei sei mesi canonici che io vedo con chiarezza fino a quel momento le cose dovrebbero andare anche piuttosto bene poi ci sarà appunto questa sorta di tradimento della tua fiducia e poi forse un mesetto circa di preoccupazione riguardante le conseguenze di questo tradimento e poi invece un miglioramento su tutta la linea quindi a conti fatti posso dirti di avere fiducia in te stesso e di andare avanti allora guarda io invece non ti posso dire nulla su questa cosa specifica perché tranne una diciamo una propensione nel tema ad avere qualche casino quando tu ti inserisci in gruppi enti o associazioni c'è un Marte in undicesima casa per giunta in ariete è questo Marte quindi ci sta che ogni tanto c'hai dei casini anche di tipo illegale dal momento che questo Marte dell'undicesima casa è no beh no pensavo fosse quadrato no comunque c'hai in sostanza un Saturno e un Urano in settima che indica che quando fai alleanze con qualcuno società con qualcuno puoi trovarti nei casini effettivamente e complessivamente però non mi sembra un tema particolarmente sfigato tranne questa propensione diciamo a ficcarti nei casini con le persone con cui ti leghi per lavoro ma poi però se ci sarà effettivamente qualche casino non te lo posso dire perché perché quando arrivano dei transiti negativi su quelle posizioni si indicano una problematica ma non necessariamente quella specifica che hai chiesto tu quindi la previsione di Tiziano mi sembra almeno per i prossimi sei mesi diciamo attendibile no? poi magari fra qualche mese ce lo richiedi sempre a Tiziano sì meglio perché effettivamente come ho sottolineato siamo a ridosso del periodo quello che vedo con chiarezza ricordiamo a tutti che il futuro non è scritto e che è comunque soggetto a delle fluttuazioni e le previsioni che si allontanano così tanto dal momento presente sono meno accurate quindi sicuramente dare un altro sguardo fra qualche mese a questa situazione può essere meglio allora adesso abbiamo una domanda di Pascal ah ciao Pascal allora Pascal dice stasera super live mi sto vestendo di petali di loto volevo chiedere a Tiziano se il progetto che ho appena avviato si svilupperà concretamente entro marzo è un progetto legato alla blockchain a Tiziano allora secondo me la risposta è sì tieni presente che questo progetto non sarà esente da alti e bassi alti e bassi che poi a conti fatti potrebbero come dire togliergli parecchia vitalità e potenziale però per rispondere in maniera sintetica alla tua domanda sì entro marzo le cose dovrebbero sbloccarsi non vedo un futuro particolarmente radioso per questo progetto però non escludo che estendendo un pochino oltre il periodo di sei mesi le condizioni possano invece poi migliorare volendo darti delle tempistiche forse questo miglioramento potrebbe arrivare verso la fine dell'estate dell'anno prossimo quindi comunque sia vedo al momento un po' una situazione bloccata poi uno sblocco improvviso con un andamento un po' cicolante che però poi potrebbe migliorare allora poi c'è questa richiesta di Francesca devo fare anzi no prima dai suoi dati anche se credo che sia una domanda più da carte comunque 17 settembre 71 ore 12 a Firenze che poi probabilmente non saranno le 12 comunque allora Francesca dice devo fare un intervento chirurgico per la riparazione di un tendine della spalla è opportuno farlo a gennaio e come andrà anche per il fatto che dovrà lasciare il lavoro per un periodo di almeno due mesi Francesca di un Allora Francesca, la risposta è sì, secondo me è opportuno. Diciamo che qui le uniche carte un po' negative che sono uscite hanno a che fare più che altro con la confusione che questo porta a livello tuo di organizzazione personale, sebbene forse tu lo abbia previsto con largo anticipo, è comunque una sorta di obbligo a cambiare abitudini. Questa mi sembra essere l'unica situazione poco piacevole. Anche dal punto di vista lavorativo vedo che forse i colleghi che lascerei non se la passeranno benissimo, però tutto rientra entro canoni più che gestibili, quindi perché no? Direi proprio di sì. No, io dal punto di vista astrologico non vedo nulla, nel senso che ha un momento in cui Saturno gli sta sul nodo, quindi è un momento carmico, però non è particolarmente solo sulla salute e altre influenze, quindi essendo un momento carmico non si può dire però se è positivo o negativo, quindi non saprei proprio che dire, se lui ha visto così mi fiderei più di quello che dice Tiziano. Ok, poi c'è Claudia che fa una domanda per il suo compagno Giuseppe che è nato il 25 giugno 65, 25 giugno 65, 15 e 30 a Bustarsizio Allora, sta per vendere casa perché ne sta acquistando un'altra dove andremo a vivere insieme. Vorrebbe sapere se la vendita andrà bene e questo cambio sarà positivo. E questa è la prima parte della domanda perché poi fa una domanda sulla situazione lavorativa, sempre sulle cose di cui abbiamo parlato prima. Quindi da quella credo che sia anche più adatta all'astrologia, mentre invece questa forse è più da carte. Intanto io purtroppo per la vendita di questa casa vedo tempi lunghi, quindi se c'è già in ballo qualcosa è possibile che sfumi prima di concretizzarsi. Quindi il periodo di attesa rispetto alle vostre aspettative potrebbe allungarsi e potrebbe allungarsi anche di parecchio, infatti io non ne vedo la fine per il momento. Paolo, non so se vuoi aggiungere qualcosa ma non credo che sia una domanda che si può vedere dal tema. Si può vedere invece che effettivamente gli sta entrando, anzi ha già da tempo, quindi questo acquisto della casa è stato qualcosa che aspettava molto perché ha coinciso probabilmente qualche mese fa con il ritorno dei nodi. C'è poi Giove in quarta casa, quindi è un periodo favorevole per tutto ciò che riguarda gli immobili, il cambiare casa eccetera. E poi Claudia aggiunge, c'è anche l'incognita lavoro, per ora non è sottoposto ad obbligo puntura, ma vorremmo sapere se la situazione lavorativa in generale non creerà problemi. Allora, Io effettivamente delle difficoltà le vedo arrivare, però vedo anche che lui in qualche modo riuscirà a scavalcarle queste difficoltà. Senza entrare nello specifico credo che lui abbia delle risorse in più rispetto al semplice lavoro, quindi è possibile che facendo appello ad esse riuscirà a superare questo periodo un po' tumultuoso che probabilmente affliggerà un po' tutto il mondo del lavoro nei prossimi mesi. Comunque sia, credo che ne uscirà abbastanza bene da questo, c'è solo da resistere, diciamo che mi aspetto nei prossimi mesi delle difficoltà in più rispetto a quelle che abbiamo passato fino adesso. Però credo che si incomincia a vedere anche la luce in fondo al tunnel. Quindi per rispondere alla tua domanda qualche difficoltà la vedo, ma vedo anche che troverai il modo, diciamo, di superarle. Aspettate me? No, no, no. Io no, tu aspettavi lui? No, no, io no. Allora, dal punto di vista dei transiti, no, non vedo cose particolarmente negative. Per quanto riguarda il lavoro. Quindi, però, ricordo che, perché, diciamo, è difficile con l'astrologia prevedere eventi precisi, no? Quindi com'è la difficoltà per quanto riguarda il vaccino. Si riesce a vedere come la persona affronta la difficoltà e sicuramente non l'affronterai, diciamo, particolarmente in modo negativo. Perché? Perché i transiti non sono negativi sul lavoro, appunto. Quindi dovrebbe essere una situazione complessivamente che tu comunque vivrai in modo positivo, quale che essa sia. Poi, non so. Si, che è compatibile con quanto visto io. Allora, poi, domanda di Barbara. Volevo chiedere a Tiziano quale opportunità lavorativa mi arriverà tra marzo e aprile. E quindi presuppone che, cioè, già sa che dovrebbe arrivarle un'opportunità lavorativa e chiede quale. Se riesce a beccarlo, Tiziano, sei un bravo. No, non credo di riuscire ad entrare così nello specifico. Allora, tu dal tema vedi qualcosa o non fai sui dati? Eh, no, non ha messo i dati perché credo che voglia farci una domanda con le carte. Allora, più che vedere un qualcosa di concreto che arriverà tra marzo e aprile, io credo che tu avrai notizia di un'opportunità tra marzo e aprile, ma che non si concretizzerà immediatamente nella tua vita. Quindi avrai questo traguardo da raggiungere, ma non sarà un traguardo che taglierai tra marzo e aprile. Quindi, poi, più in là, vedo effettivamente la stabilizzazione a livello di lavoro. Però di che cose si tratti? No, non riesco a essere così specifico. Ok, poi c'è questo commento di Elena che però non fa nessuna domanda e dice Volevo chiedere di dirmi qualcosa a voi, niente di preciso perché fatico a scegliere quale tra le mille, però Elena dà i suoi dati. Prima l'ha scritto un'altra parte. Eh sì, però dice mi sveglio felice e vado a dormire felice, quindi non c'è nessun problema. Grazie a Urano, la mia vita è cambiata completamente. Non vi racconto tutto perché basta guardare i transiti del mio tema natale. La mia vita è... Vabbè, poi dice appunto che gli è scappato il messaggio. Eh, però Elena, quindi che cosa ti dovremmo dire? Cioè, potremmo guardare i transiti per vedere se è un periodo felice, ma non credo che ci sia bisogno di questo. Cioè, se tu dici che sei felice, non lo so che cosa potremmo dire a Elena. Se vuoi Paolo ti do per curiosità i suoi dati. No, ce l'ha? Ce l'ha? Ci l'ha, c'ha da di? Sì, sì. Allora, dammeli. Allora, 2 maggio 65. Ore? 1.30 di notte. A Sanremo. No, diciamo che la domanda è un pochino generica Eh no, in realtà non c'è proprio la domanda Perché dice, volevo chiedere di dirmi qualcosa a voi Niente di preciso perché fatico a scegliere quale tra le mille Però poi il fatto è che ha detto di essere felice Cioè ha detto che si sveglia felice e va a dormire felice Quindi felice Diciamo che l'augurio se l'è fatto da sola Nel senso che la cosa bella se l'è detta da sola Noi che cosa possiamo aggiungere di più rispetto a questa cosa Eh sì, poi dice grazie a Urano la mia vita è cambiata completamente Ah già perché essendo Toro quindi sta avendo in questi anni Il transito di Urano nel Toro evidentemente ha portato delle cose positive Ma vedi come subito Beh Urano è entrato nel Toro due anni fa No no, che Urano in Toro chiaramente me lo ricordo Però non ho fatto il collegamento Ah ma in questo caso perché lei l'ha proprio detto Cioè ha detto grazie a Urano Eh ma io non avevo capito perché grazie a Urano Quindi poi ho visto il Toro No ma io ci ho messo un po' per collegare Senza ha detto grazie a Urano Ho detto boh avrà avuto un transito di Urano particolare Non avevo riflettuto che Urano è in Toro In effetti quando Urano è sul Sole Effettivamente è una posizione straordinaria Poi Stefania vediamo se per le prossime puntate Riusciamo a rimediare un astrologo un po' più bravo Allora adesso le domande personali diciamo sono finite Ci sarebbe quest'ultima domanda di Elena Però non so se possiamo rispondere Perché abbiamo sempre detto questa qui Dice Elena pensate sia possibile fare una previsione Sui prossimi provvedimenti in ambito vaccinale Si parla di obbligo per tutti Io l'obbligo vaccinale devo dire un po' me l'aspetto Perlomeno difficoltà di questo tipo Più o meno fino a marzo potrebbero esserci Parlo al condizionale perché non è il risultato di letture che ho fatto Però la sensazione che ho è che possano spingersi fino a lì Obbligo vaccinale in ambito lavorativo Quindi non l'obbligo vaccinale che ti vengono a prendere casa per casa o cose del genere Però mi aspetto anche che poco dopo l'inserimento di questa Come si dice? Di questa? Stronzata Bravo, bravo Proprio la parola che stavo cercando Dopo l'inserimento di questa stronzata Inizieranno in Italia delle proteste che saranno via via sempre crescenti Questo da marzo in poi grosso modo Con l'arrivo di qualcosa di grosso, molto grosso Verso i primi di giugno Quindi forse non dico una rivoluzione Ma insomma qualcosa di importante E infatti suggerisco a chi abita in grandi città Di magari farsi la scorta di un po' di cibo e acqua Perché magari non servirà Però potrebbe essere utile averla piuttosto che non averla Sì, tra l'altro stanno parlando A proposito di scorte di cibo e acqua Stanno parlando anche di un possibile blackout Sì E comunque se non ci sarà un blackout Comunque ci sono parecchie difficoltà A rallentamenti nella consegna delle merci Quindi diciamo che Il clima non è dei migliori Quindi Si sa di chi può No scherzo Però ecco meglio essere prevenuti Magari non succede niente Però No, succederà qualche casino Magari non toccherà la singola persona Ah certo In questo casino dipenderà da come uno si pone Per esempio chi scenderà in piazza convinto che Tra virgolette bisogna fare qualcosa Ma incontro dei guai Poi dipende ognuno C'è una situazione sua personale Bisogna vedere come Come se la caverà Chi vive in montagna In una baita di montagna Prendendo le cose che mangia magari probabilmente da sé Manco se ne accorge di sto casino Sì, infatti Quindi Dipende dalla singola situazione di vita personale Infatti è il motivo per cui su questo non ci ho fatto delle letture Sono più delle impressioni che sto avendo Perché a livello di lettura io vedo con la lente di ingrandimento Quello che succede Quindi non posso fare valutazioni su eventi che riguardano tutta l'Italia o tutto il mondo Però ecco penso che i prossimi sei mesi saranno sostanzialmente più duri E forse il picco sarà intorno a marzo Hai detto giugno Giugno sarà il cambiamento Però la parte più difficile dove poi si accenderà questo fuoco della rivolta sarà a marzo Quindi è il momento più duro Ok Sì a giugno aveva detto che sarebbe cambiato qualcosa Che cambierà Dovrebbe cambiare qualcosa A giugno Sì Mentre invece sì a marzo Già Mi sa che già l'avevamo detto anche forse in alcune letture delle scorse puntate Avevamo comunque trovato questa cosa di marzo come periodo particolarmente difficile Ok vediamo se c'è qualche altro commento Allora Elena dice comunque se volete vi faccio una domanda concreta Eh se vuoi tu Elena Però a questo punto allora la facciamo nella prossima puntata Perché oggi abbiamo diciamo soddisfatto parecchie richieste Perché appunto c'erano tutte le mail arretrate E poi c'erano anche diversi commenti in chat Quindi Elena se vuoi nella prossima puntata ci puoi fare una domanda più specifica E bene quindi a questo punto chiudiamo qui la puntata E quindi diamo appuntamento a Andiamo a vedere Al 36 dicembre Allora E quindi quando facciamo il 4 gennaio Perché il 28 Vabbè poi comunque lo diremo sulla nostra pagina Il 4 gennaio mi pare che è giovedì però aspetta Eh no il 4 gennaio è martedì Ah è martedì Sto vedendo qui su Stefano è sempre un passo davanti a tutti Ah è vero è vero come l'ho detto E vabbè quindi forse il 4 gennaio ma comunque insomma lo diremo Sul anche sulla nostra pagina facebook Bene quindi ciao a tutti e un grande abbraccio Ciao a tutti Ciao a tutti